Questo percorso stiamo cercando di fare, far conoscere e usare ogni forma d'arte per aumentare l'inclusione sociale, per aumentare la coesione, l'infettirsi di relazioni. Anche per egoismo le persone possano comprendere quanto è importante il lavoro del genere. Si pone il problema che si sente la musica ad alto volume una sera ogni sei mesi, ma grazie a Dio questo è un posto ideale dove vivere, non dove passare. Quali abitanti resteranno nel momento in cui io continuo a firmare atti di morte, pochissimi atti di nascita?